buona visione ben trovato qual è il problema tu e rosa siete fuggiti dal palazzo ma ad altri andata peggio emilio li ha catturati e vuole giustiziarli hai idea di dove li tengano? so che sono nel sestiere ma a parte questo no li dovrai cercare li riporterò qui in men che non si dica sentite come strillano patetici per forza il loro capo si nasconde dov'è emilio? voglio sbarazzarmi di questa feccia il nostro must non andrà in a nessuna parte ricordate l'addestramento affrontate quell'uomo con molta attenzione cosa stiamo a prenderlo? guardate come abbiamo fatto a pezzi quell'elvetico dobbiamo cercare di partiturare a lungo tanto attacco Non mettersi le dita nel naso, bambino! 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 uniti ora per tutti vi sentirete meglio ora ma riguardatevi giu cane giu subito che diavolo ci fai sta scappando che questo valga da che feccia è questa il prezzo della per questo denaro sembra utile si avviso al sume meredionale avvio avvio bene di qua attenzione assasino assasino sei mio bravi cittadini un consiglio assaggiamente approvato emilio dice di volere l'unione ma non vuole altro che il potere i vostri misbatti devono cessare io non saprei il popolo soffre non come lui almeno mio dio mi ha impazzito finchè non riceveremo comunicazione dal santo padre le terre a sud e oggetto di contesa non possono essere terreno per iniziative commerciali come come fa state attenti quando vi trovate nei pressi dei campieri riferite alle autorità eventuali danni e siate cortesi Emilio dice di volere l'unione ma non vuole altro che il potere i vostri misfatti devono cessare il popolo soffre l'ho perso Emilio dice di volere l'unione ma non vuole altro che il potere i vostri si va si va si va si va molto meglio vedrete ecco l'ho ecco l'ho non dovrete stare qui giù subito torna giù ti colpisco su ora laggiù prendetelo e fai va grazie a tutti ecco l'ho seguiti va bene te la sei cercata dietro di me dietro di me qui avanti i miei ordini sono di uccidere gli intrusi chiaro che stai facendo scendi giù subito laggiù prendetelo di qualunque cosa si tratti non è non è a far tu stupido che fai qui batte vila via ora non è a far tu stupido ok vai va ragazzi ragazzi prendiamo già la stanza dalle guardie la stanza Sì, non è vero. Grazie mille. Grazie mille. Tornate quando volete. Solo un minuto. Devo fermi, con me. Diamine. Devo andarmene. Subito. Presto dovreste sentirvi meglio. La giù, eh? Hai provato. Caretta, maldetto bastardo. Ti prendo, per te, queste cose. Ti prendo, per te, queste cose. Non ho fatto nulla. 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 Lo c'è. Ma lei sia dopo poter avere la potenzia di questo uomo, ma lei sia dopo poter avere la potenzia di questo uomo. Ma lei sia dopo poter avere la potenzia di questo uomo. Non credete alle voci che giustificano. Io non saprei farlo. Costui non è... State qui. Eccolo! Lì, lì! Io non c'entro! Eccolo! Disgraziato! Vediamo come te la... Basta, basta! Ma dove? Là! Allosso! non fatevelo scappare come mi piace l'odore dei criminali bruciati di prima mattina via di mezzo fate largo con me presto fuggiamo voglio restare fuori via qui avanti notevole non mi aspettavo che ci riuscissi così in fretta è stato un piacere informerò antonio dei tuoi progressi vieni da me più tardi ho un altro lavoro per te che tipo di lavoro? vediamoci al molo e ti spiegherò molto bene